Siamo qui alla festa del castello di Chiesa Nuova con il gruppo delle sirene danzanti dai maestri Sandra e Mirko di Rimini e dei maestri di Villa Grande, Marta e Valerio Severini, pluricampioni italiani. Questa sera i nostri ragazzi ci presenteranno un grande spettacolo di ballo. Ma prima salutiamo Ariane e Gabel che si vanno a riposare. 10 minuti giusto? Scusate, volete andare a bere un picchiaio l'acqua e vedo che sei un'altra. Non ne potranno più di noi. Vi facciamo un grandissimo applauso. Grazie. Eccoci, prima di iniziare l'esibizione ho bisogno del vostro aiuto perché i nostri ragazzi sono tutti grandi, sono tutti spiritosi, però poi quando è ora di ballare sono tutti timidi, hanno paura, si vergognano e quindi ho bisogno del vostro aiuto perché con i vostri applausi dovete scaldare questi ragazzi che sono i competitori delle classi B1 e B2 della sezione di Villa Grande e del Sine di Valzanti. Eccoli qua, pronti in posizione, i nostri ragazzi con questo bel vestito rosso si presenteranno un balser dal titolo Rete Rossa. Vai con la musica. E' un balser dal titolo Rete Rossa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.